Il rettilizio che porta allo striscione dell'arrivo, sei giri alla conclusione, avvicinatevi per il tifo della nostra ragazza e là in fondo avevo visto un po' più di quello pallone, mi raccomando via quel pallone dal percorso mi raccomando attenzione al passaggio delle concorrenti in arrivo tra poco abbiamo le scorte tecniche che precedono la caravana del 92 concorrenti in gara, abbiamo già visto qualche ritiro Siete in porta? Tutti così dicono, tutti così, sì, sì Sì, come mai siete solo in due, ne manca uno ragazzi Allora... Attenzione, comunicazioni da parte del Radio Corsa, ecco le prime tre concorrenti al comando Applausi pubblico, molto bene, dai ragazze, dai ragazze Hanno già un buon avvantaggio sulle avversarie Iniziamo in aria Gritti con Elisa Corradetti e il numero 79 di Irene Vottero Le prime tre in arrivo il gruppo all'inseguimento delle tre fuggitive al secondo giro Vogliono fare la differenza sulle avversarie e lottare per la maglia regionale e provinciale 2023 Attenzione pubblico, via dal percorso, arrivano le concorrenti del gruppo All'inseguimento delle prime tre Attenzione, applausi pubblico, dai ragazze, sei giri Sei giri alla conclusione, sei giri Sei giri al termine, dai ragazze Sei giri per terminare, brava Oggi, questo è pieno di mario Come tutta la tua parte, anche se la fine E' un po' di barrage E' un po' di barrage E' un po' di barrage Sulla... Si traduce una bella gara Entro l'anno, dall'inizio alla fine Come sceglia Con questo importante evento Questo ruolo Questo ruolo E' anche delle prime tre Sulle avversarie Un appoggio Oh, giro, faccio io E' un po' di barrage E' un po' di barrage Perché ti regoliamo? E' un po' di barrage 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 Un po' di barrage E' un po' di barrage Grazie.